ciao a tutti amici di youtube e benvenuti in questa nuova deck profile del team united with stand in questa occasione vorrei farvi vedere la mia personale lista di cyberangelo innanzitutto ho deciso di giocare una skill come al solito per distinguermi diversa dal solito infatti gran parte dei giocatori soprattutto online visto che non ci sono attualmente torna a causa del covid tentano utilizzare questo mazzo con la carta cerimonia del rituale come skill card io invece preferisco di gran lungo utilizzare una carta che esce proprio dentro lo speed duel gx box che è ascensione angelo macchina è una carta che alla lunga potrebbe fare la differenza nel mazzo e che ci consente soprattutto di poter scartare una magia per aggiungere sia una carta magia rituale appartenente al deck cyberangel e sia eventualmente un mostro rituale inoltre è una carta che alla lunga ci consente di ottenere un altro secondo effetto rispetto a quello che può essere la carta cerimoniale del rituale ovvero di mettere una carta cyberangel oppure un rituale all'interno del proprio mazzo e di conseguenza di poter riutilizzarla all'interno della partita infatti uno dei problemi del mazzo è proprio quello di riutilizzare le magie una volta finite al cimitero e questo può avvenire attraverso non solo la nostra skill card ma anche attraverso piccole carte che si possono inserire di side come per esempio un mago della fede ma questo sta poi a voi la scelta soprattutto di che tipo di side deck utilizzare quello che vi posso consigliare è invece il main deck che ho deciso di comporlo in questo modo innanzitutto due copie di cyberangel e zanna ho deciso di non giocarla in tre per perché in questa speciale build di poche carte è importante velocizzare soprattutto l'attacco infatti quello che vi consiglio è di giocare molto aggressivo che la chiusura del match da venire in uno massimo due turni anche perché nel momento in cui la partita durerà più turni sarà molto più difficile tentare di poter vincere di conseguenza è importante alla fine dell'utilizzo del mazzo tentare di portare degli attacchi immediati al vostro avversario tentando anche comunque di distruggere le sue background come attraverso carte come per esempio la stessa zanna o altre magie che poi vedremo zanna è una carta che una volta evocata ci consente innanzitutto di poter far sì che l'avversario selezioni una delle proprie magie o trappole e la deve obbligatoriamente mandare al cimitero una particolarità è che carte come per esempio waking the dragon non partiranno quindi non applicheranno i loro effetti inoltre una carta che ci consente di poter attaccare due volte all'interno dello stesso turno qualora l'avversario presenti due mostri quindi riesce ad attaccare due mostri in un turno e soprattutto se questa carta viene scelta come bersaglio una carta dell'avversario ci consente di selezionare a nostra volta una carta dell'avversario che può essere una magia trappola o un mostro è di conseguenza di distruggerla diciamo che possiamo considerarlo a tutti gli effetti come il big monster e il big boss del mazzo ecco in più un'altra caratteristica è che se in combinazione con un'altra carta che è i daten che tra poco vedremo il suo attacco andrà a 3.500 e quindi ci consentirà anche di eventualmente fare degli otk e di avere quindi un'ottime prestazioni sul terreno un'altra carta in 3x questa qui è veramente il motore del mazzo è la carta bentenna è una carta che se evocata ci consente innanzitutto di avere delle soluzioni di chiusura contro il mazzo dell'avversario in quanto nel momento in cui distrugge un mostro dell'avversario in battaglia non solo faremo del danno in relazione alla differenza tra il nostro attacco di bentenna quindi è del mostro e l'avversario ma potremo applicare anche il suo effetto e quindi di infliggere ulteriore danno da effetto in relazione a quella che è la difesa del mostro e dell'avversario non finisce qui l'effetto di bentenna in quanto nel momento in cui viene utilizzato attraverso carte come per esempio il rituale di cyber angel come mostro tributo ci consente di aggiungere un mostro quindi luce feiri dal mazzo e quindi è essenziale giocarla questa qui in 3 copie sempre preferito giocare anche in 3 copie la carta di daten questa carta ci consente una volta evocata di riaggiungere un mostro rituale dal cimitero alla mano e oppure eventualmente di aggiungerlo dal mazzo ma quello che vi consiglio in questa profile mondo in cui poi vi allenerete ad utilizzare il mazzo è di all'inizio utilizzare sempre la carta dal cimitero di aggiungerla alla mano perché nel momento in cui sprecate tutte le carte rituali poi è difficile soprattutto in game 1 tentare di recuperarla di conseguenza avreste a quel punto meno giocate da poter svolgere durante il corso della partita soprattutto se è una partita che si prolunga nel corso del tempo in più sempre attraverso la carta data non riuscirete a potenziare i vostri mostri cyber angel di mille life points altra carta essenziale è la carta senso in questo caso riusciremo ad aggiungere qualsiasi mostro rituale che desideriamo in relazione alle nostre esigenze in due copie ho deciso poi di inserire la carta cyber drago il motivo è molto semplice innanzitutto è un mazzo che deve iniziare la partita possibilmente andando partendo come secondi quindi di conseguenza quando l'avversario aveva molto probabilmente un mostro riusciremo ad evocarlo specialmente sfruttando il suo attacco che è di 2100 ma soprattutto è un livello 5 quindi ci aiuta in combinazione con la carta rituale dell'angelo macchina per evocare soprattutto mostri con un elevato numero di stelle come ad esempio izan oltre a consentirci anche eventuali giocate da one tour kill quindi da otk poi giocheremo una carta essenziale ai fini dell'utilizzo del mazzo che è il rituale dell'angelo macchina che ci consente praticamente di tributare mostri dalla terreno eventualmente dalla mano per evocare i nostri sebere angeli la combinazione più forte ragazzi che potete fare è all'inizio utilizzare un rituale ancelo macchina in combinazione con ben ten e i daten come fare nel momento in cui ci ritroviamo in mano queste tre carte la combinazione migliore che potete fare attivare rituale dell'angelo macchina tributare ben ten al cimitero ed evocare possibilmente in difesa almeno in relazione alla situazione soprattutto se è turno 1 i daten di conseguenza partiranno gli effetti in combinazione di ben ten e di daten ci aggiungeremo il rituale alla mano e attiveremo l'effetto di ben ten e in genere attraverso ben ten si aggiunge o in zana o un sangio per poter poi il turno successivo ripartire poi ulteriori carte che possiamo utilizzare all'interno del nostro mazzo ma soprattutto anche per tentare di utilizzare la nostra skill card per questo ho messo molte più magie del solito e nessuna carta trappola sono in due copie la carta al buco fu mono che ci consente comunque di poterci difendere eventualmente dall'avversario ma soprattutto è un'ottima auto aggiuntiva a carte come nightmare will per esempio e poi in due copie contro ad esempio ad esempio una zona the spirit dell'avversario o una floodgate trappolo che può magari pensierirci ho messo due copie di cosmic cyclone oltre al loro effetto sono quindi delle ottime carte soprattutto che ci consentono di avere molte più chance per l'attivazione di ascensione ancelomacchia speriamo che questa deck profile vi sia piaciuta e ci vediamo in un prossimo video ciao